Questo spettacolo lo perderà nessuno! Ehi ma... Ehi ma... Sacca tutto... Sacca... Che confusione Sarà perché stacchiamo È un'emozione Staccare piano piano Ehi sacca, sacca si sa E poi? Vabbè Le canzoni di Rupert Ecco qua vabbè Siamo caldi Siamo caldi perché Io sono un dirigente dei Pianantissimi Della Walt Disney La Walt Disney si occupa di cartoni animati E perché io sono il nano di sette nani Fate il nano a casa che ti aspetta a Biancaneve È brutto Il nano brutto lo ho Mi manca, vai Sono un dirigente dei Pianantissimi della Sia Cosa ci sarebbe non in regola? È che è tutto in regola Si E se faccio così i modelli ti pare in regola Qual è? Che succede? Venga il suo pericolo e ci dà sempre i corsi Ma perché? Ma perché? Sei un maniac Un pericolo è un manico Bravo, fermata A finire Chi si può fare una catastro E c'è Mette il caso che questo E la modella dice Qua? Qua? Come si? Vabbè 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 No Erano Manca Ma che? Ma dove un faccio il tuo ignaccio di fuori? Non so che c'è Sono io Sono io Non so che c'è Non so che c'è Chi sono te le cano di scena? Non so che c'è Ma perchè Ma lo stiamo schiizzando Dice Allora C'è Ma lo comincia a montare Ma che sta succedendo? È bene uno per sinea Ma ci sono, sai qua? Pazzura così... Tutto ciò andato a montare la faccia, che si? Come fai a graffiare uno così? Ma no io! Ah, ti ho accettato a montare la faccia! Meschino con l'ucinato! Quindi lei cammina sempre con un gatto? Ah, tu lo capisco! Lo capisco! Ah, signora, dicevo, ah, te la mia... Cominciai a montare la chieda, cominciai a montare... Ah, le pozzate... E se meschino con me... Qua? Giovanni ha detto Swatch! Perché lo chiamate Swatch? Ah, vi pare che ci fanno i ricettari! C'è questo... E cominciai a montare pure lo Swatch, se mesca Ninuzzo... Ninuzzo! No! No, Ninuzzo! No, Ninuzzo muore sempre! Se sei andato a fare i piccoli, diciamo che i piccoli non mesco io, cominciai a montare! No! Sbatteli! 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 E muore! Ma quando non si fice niente... Eeeh! Ninuzzo non si è fatto niente! Eh va! Dici piccoli, però facetemi prendere una boccata da là fuori! Il tempo che ti diceva che stanno scendo, passa la macchina e lo prendere! Ma è morto fuori! Ma quando è me che lo sbatto nella macchina venne a scoprire sotto la tavola? Ahahah! Il tuo muore è carino! Ma che precisione è! Ma poi si muore tutte le serie! Io non lo so! Ma chi ci arrivi? Ah no! Una volta incredibile qua da 1.500 euro! 150 euro in più! Beh! C'è cattelisca e poi tu praticamente lo sbocci! Ci penso a te! Ci penso a te! A fine mezzo cancio l'orario signo negua! Che se ci cancio l'orario... L'unice a 10! Perché se cambiano l'orario mi cambiano pure i piedi! Un'ora avanti! Non lo dico! Non lo dico! Non ci penso a te! Non ci penso a te! Dai! Non ci penso a te! Dai! Dai! Pensaci tu! Tu so fottonato che puoi da scavogna! So fottonato perché hai a X e hai a X, hai a X a texaragga! X ozza! Metà 6x e cà! No! No! Ora posso provare a chiamare il mio capo, vediamo che mi dici in italiano! Vabbè... Vabbè in italiano eh! Perché in italiano sono tipo... Contro a te, per me stiamo schizzando! Valla ca, figuerone a poco! No 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 no! Allora ci parlo io! No, ci parlo io! Dai, dai. Ma che dobbiamo fare? Io ci vorrei? Beh... Stiamo schizzando... Pronto! Prole con diverse paternità! Ascoltami bene, l'altra sera è esagerato Sì, credimi, preferirei accompagnarti in un negozio d'abbigliamento Piuttosto che occuparmi del tuo sostentamento nutritivo Cosa? Abbi extra trust, ma non mangiare Ma ti sei offeso? Allora fai una cosa Vai ad espletare le tue funzioni organiche in un luogo con lampadine fulminate Che significa? La cacoloscura Ma questa è, stavo sbagliando lì 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 A posto ragazzi Sì, trovo la soluzione Qual è la soluzione? Ti parla sempre di cose Dammi a 500 euro E c'è la 500 euro 250 euro Ti bastano Ci vai a 5 euro su vecchio Che devi fare? C'è cattare le merendine a me figlio Una cosa buona Oh, finalmente le merendine allora ci sta Perché? La finire i futtrici di merendine ai tuoi compagnetti Ma che famiglia siete? Ma dov'è? Le impara ste cose Insomma, ti ci insegno queste cose Ma che famiglia? Ma che è di sciuola? C'è lei A posto signor Sì Andiamo avanti con lo spettacolo Qual è la soluzione? La soluzione Io non ci vedo più A poi Che soluzione di Kicks? Non ci vedo bro